Signori, Perfect Sense, film del 2011 su Prime Video, lo stesso anno è uscito anche Contagion e guarda un po', tutti e due i film parlano di un super virus che in questo caso fa altre cose che invece che l'olfatto, vabbè, ha il gusto, è la stessa cosa. Il film è un po' una cagata onestamente, cioè è noioso, la prima parte magari è potabile, ma poi diventa noiosissimo, da vedere solo perché c'è la bellissima, mamma mia, come si chiama, che ha fatto anche il Trimbers con, mamma mia, un vuoto, Eva Green, ecco, adesso sono andato a scoprirlo, è bellissima, ma a parte questo, il film 6.2 e basta così, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like, ciao ciao!